salve in questo video vedremo come aggiungere una voce all'attività glossario quando saremo dentro il nostro corso moodle cerchiamo il modulo in cui stiamo lavorando e dentro il modulo cerchiamo l'attività glossario questa attività è sempre contrassegnata da quest'icona che è come una sorta di piccolo diario clicchiamo sul titolo e qui in alto troviamo le istruzioni che cosa dobbiamo fare in questo glossario e come aggiungere la parola nuova andiamo un po' più giù e per aggiungere la parola nuova a questo piccolo dizionario dobbiamo cliccare su aggiungi voce e qui ci sono due campi che dobbiamo compilare obbligatoriamente concetto e definizione nel campo concetto devo appunto scrivere la voce nuova che vorrei aggiungere quindi per esempio cattedra e nel riquadro del campo definizione posso aggiungere la definizione per esempio potrei anche aggiungere un esempio potrei aggiungere un'immagine qui troviamo un editor quindi con tutte le sue funzioni potrei cambiare anche colore grandezza quando avrò finito vado giù e clicco su salva modifiche ecco qui la nostra voce se dopo aver inserito la nostra voce volessimo modificare qualcosa dobbiamo andare qui sotto e in basso a destra e cliccare su questa piccola ruota e qui potremmo modificare la nostra definizione aggiungere qualcosa e dopo clicchiamo su salva modifiche se volessimo eliminare la voce clicchiamo su quest'icona e verifichiamo